Mi stavo dicendo che sono femmine, da 4 mila euro a mese, 4 mila euro, ora ne ho fatto paura, vinto l'8 milione, mi pavavo qua a Banco Matteo. Io non mi pavavo qua a Catecredito, qua a Banco Matteo, se io pavavo 60 euro, noi 60 euro rispissi, perché qua a Catecredito pavavo l'1,50, sopra 4 mila 60 euro, se tu me lo tassi, non è che usco 60 euro un'altra parte, non si rasteva, non si rasteva, non si rasteva, non si rasteva.